E bella a tutti ragazzi, oggi siamo qui tornati su Clash of Clans, purtroppo la registrazione del video che dovevo uscire oggi l'ho cancellata per sbaglio, anzi l'ho stoppata nel momento sbagliato, quindi non potendo editare il video non potevo mettere insieme tutte e due le parti, quindi adesso vi andrò a raccontare quello che avevamo fatto nel video che dovevo uscire oggi. Quindi avevo accennato la nuova serie che si chiamerà per l'appunto, come leggete dal titolo, Road to Wall Line, una cosa molto akab come avevo detto prima, e per l'appunto avevamo fatto già un attacco in live, ci serviva soltanto 140.000 di oro, scusate, e ne abbiamo trovate un bel 187.000, ho buttato il terremoto da questa parte per farmi strada, non mi ricordo se ne ho buttato 5 o 4 come ho detto, ho buttato i nostri cari barbari seguiti dagli arcieri per ripulire e supportare il tutto, purtroppo non sono riuscito a salvare questo video che dovevo uscire, però vabbè, ho messo anche le truppe del clan per supporto, ho messo la furia per far incazzare il tutto, e qui dovevo prendere anche quest'altro deposito per fare l'obiettivo del fare le mura di oggi, mi serviva 140.000 e ci mancava veramente poco come vedete qua in alto a destra. Qua già l'obiettivo l'avevo fatto, adesso ve lo ucciso per non farvi scassare le bolze a tutti quanti perché in live sarebbe stato più carino, qua ho fatto anche il 100% in live, un discreto bottino, e a questo punto io vi stavo facendo vedere l'attacco che avevo fatto prima di registrare, avevo fatto un bel bottino, un 400.000 di Elisir e un 200.000 d'oro, non ho preso tutto l'oro, perché non so il perché, perché tutte le miniere le avevo prese, questo era un inattivo della Madena, infatti le risorse vedete qui in alto a destra che salgono come non so cosa, scusate ancora se non posso editare video, ma per l'appunto non ho il computer perché mia madre me l'ha inculato, quindi dobbiamo adeguarci alle nostre aspettative del canale, scusate ancora, eccolo qua dove era, quello con 100.000 di oro, era lì in mezzo, quindi niente, qua ho preso anche qui un bel bottino di 200.000 d'oro, e quindi ditemi nei commenti se questa serie vi può piacere, ovvero di portare tutti questi muri che mancano a livello 9, e ora vi dico subito, ne mancano 24, andiamo a fare oggi, siccome ne mancano 24, adesso ne mancheranno 22, andiamo a fare questo gentile muro, andiamo a fare anche quest'altro gentile muro con Elisir, quindi ce ne mancano 22, 22 muri, quindi 22 milioni, quindi 11 milioni d'oro e 11 milioni di Elisir, quindi ditemi nei commenti se questa serie vi può piacere, lasciate un bel like, arriviamo a 50 like per supportare questa serie che è abbastanza nuova, nessuno penso che l'abbia mai, ditemi nei commenti quale altre serie vi potrei portare che vi potrebbero piacere, e noi ci vi chiediamo domani con un prossimo video. Bella ragazzi, iscrivetevi al canale se non vi taglio le palle.